Non si fa così, non si fa così, si fa vicino, fermo, stai fermo, stai fermo, stai fermo, oh, stai vicino, devi saltare subito, nooo, eh, subito, no, perchè? Vai, più vicino, più vicino, oh, vai, devi saltare subito, salta, nooo, oddio, ritorna Marco Corazzo, non devi andare, oh, ragazzi, ragazzi, dobbiamo, niente, 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 ospettiamo Mori, salta, salta, la prima volta che lo fai sì sì ti prego no no aspetta abbiamo pochi raggi ne ho tre tu quanti ne hai quattro apposta dammi però non proviamo ora e ma lo sai che hanno fissato il fatto che non puoi sparare c'è puoi sparare da sopra ma non fai danno ma che cosa è comunque troppo figo ragazzi io la carico questa no è chi lo fa a fare